Pochi sanno che il 54% del nostro Trentino è gestito appunto dalle ASU, è gravato da Usu Civico. Dal 1003 fino a Napoleone il Trentino era uno stato autonomo al par di altri stati europei, quindi noi siamo sempre stati un popolo che ci siamo autogestiti, autogovernati e da Napoleone, quindi governo francese, bavarese, austriaco, hanno sempre cercato, anche il governo fascista, di demolire queste proprietà e non sono mai riusciti. E cos'era questo uso civico storicamente? Storicamente era il diritto di avere della legna per il riscaldamento, del legname per costruire il tetto o la casa, il diritto di prelevare l'erba per fare il fieno, il diritto di pascolamento nelle malghe e il diritto che adesso è entrato sull'estrazione del porfido, sulle cave, di prendere questo lastrame per fare la copertura dei tetti. Le proprietà che sono boschi, prati, malghe, cavi di porfido e vengono gestite autonomamente, qui da un comitato, che è un comitato ASUC, che viene eletto ogni cinque anni o dai capi famiglia o tutti i cittadini maggiorenni. Ogni anno noi dobbiamo rendere conto tutta la popolazione, quindi ogni anno si fa un'assemblea pubblica dove si espone il bilancio, tutte le scelte che vengono fatte straordinarie vengono fatte coinvolgendo la popolazione. Nella nostra realtà è molto molto vivo il senso civico, ossia sentire la proprietà di tutti come propria, considerare prima i problemi collettivi e dopo i problemi della singola persona. Delle carte di regola anche antiche, il bosco più vicino, più comodo era riservato alla vedova, alla persona meno abbiente perché solo quella poteva beneficiare di quel bosco per una certa quantità di legna e anche adesso noi siamo molto attenti a questo, diamo dei contributi per iniziative all'interno della scuola, per quanto riguarda l'educazione sportiva, all'interno delle parocchie, quindi cerchiamo di dare dei sostegni. I proventi delle attività delle ASUC vengono ridistribuiti in termini economici oppure si fanno un altro tipo di opere? Allora, i proventi prima di tutto vanno impiegati per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni. Ci sono delle frazioni che hanno delle entrate patrimoniali importanti e noi cerchiamo sempre una condivisione per quanto riguarda gli investimenti col comune. Quest'anno per esempio c'è stata una compartecipazione di spesa, progetto e disponibilità e stiamo andando a fornire tutto l'abitato dei Tresilla dell'illuminazione pubblica a LED con il contributo loro. Noi come amministrazione comunale avevamo un deficit nella gestione dell'illuminazione pubblica perché avevamo un impianto vecchio, non avevamo dei punti distribuiti in modo capillare sul territorio, sono subentrati loro con un finanziamento, abbiamo messo in disponibilità alla struttura e così abbiamo raggiunto questo obiettivo. Per quali usi viene garantito ai componenti dell'ASUC l'utilizzo della legna, delle foreste? Sì, assolutamente. Allora una parte viene commercializzato, una parte i censiti fanno una richiesta all'ASUC per i propri usi. Non so, se si brucia, se prende fuoco in una casa, noi diamo tutto il legname gratis. Poi se un cittadino da noi fa, non so, fa lo scultore, ha bisogno di far uno stazionato a un qualt'altro, chiede e lo diamo a un prezzo veramente basso. Poi il legnatico, la legna che deriva dalla lavorazione per quanto riguarda la vendita del legname, quello viene integrato con altre piante e viene assegnato a ogni famiglia, a ogni fuoco per il riscaldamento delle case, quindi con la stufa o caldare la legna. Mentre per quello che riguarda le cave di Porfido come funziona? Noi diamo in affitto queste cave a metro cubo, quindi si fanno delle perizie per quanto riguarda la resa, poi si misura il volume scavato e alla fine, in base ai contratti, noi incassiamo questi soldi. Nel caso di conflitto tra ASUC e comuni? Questo è il rovescio della medaglia, come amministrazione comunale di Banjirga abbiamo aperte dei contenziosi con le amministrazioni separate di uso civico su diverse visioni o su diversi approcci di gestione e decide il giudice se non ce la facciamo a decidere tra di noi. Con i comuni noi cerchiamo sempre di avere ottimi rapporti, non abbiamo davvero proprio lo disciplinare, il comune è sensibile alla nostra realtà, noi abbiamo degli incontri annuali con la giunta, vediamo quali sono i problemi comuni sui quali intervenire eventualmente con dei finanziamenti. È una consulta nazionale, quindi siamo rappresentati anche da una consulta nazionale, quindi abbiamo un partito trasversale, quando si parla di vendere i beni eccetera, interveniamo anche politicamente. Se voi pensate che questi comitati nascono nel 1300 e vivono tuttora, secondo me è un esempio di democrazia che supera le varie influenze del tempo, secondo me è già di per sé una conferma che si sta andando in una direzione giusta. Non dobbiamo dimenticarci che questi beni hanno permesso alla nostra popolazione di vivere in povertà ma in modo miserabile.